Gli occhiali da solo li sto indossando perché ho l'allergia e quindi agli occhi che sembra un fatone Ciao ragazzi, benvenuti a questo primo vlog del canale se Dio vuole, sono riuscito anche io a farne uno Vorrei fare questo breve vlog per introdurre delle piccole novità che ci saranno tra poco su questo canale Tanto vorrei sottolineare che ho acquistato finalmente, porca puttana, una cazzo di GoPro Hero 3 Black Ovviamente adesso ci saranno finalmente i video in dual cam I video action avranno un format un po' nuovo, un po' migliorato con questa nuova dual cam Quindi usando la mia vecchia Qmox sorrisse delle mie repliche Presto arriveranno altre recensioni, ne ho già preparata una Presto avremo anche una pagina Facebook E niente, grazie per la visione di questo vlog stupidissimo che ho voluto fare perché sì Ciao a tutti e alla prossima Ciao a tutti